Si articola in tre giornate ospitate nel centro storico di Castrolibero il festival editoria e giornalismo emergenti ideato e diretto da Piero Muschari. La Kermes si riallaccia ad un'altra manifestazione organizzata dallo stesso Muschari nel 2009, Castrolibero zona franca della comunicazione, riannodando così i fili di un percorso che vede il protagonista oggi come allora il piccolo comune delle serve cosentine. Ci siamo detti che forse era il posto d'Italia piccolo ma più giusto per celebrare un giornalismo che avesse un piglio di libertà che ancora oggi manca. Comunicazione, editoria e giornalismo i macrotemi delle tre giornate del festival in programma tra l'11 ed il 13 aprile. Diversi gli ospiti tra i quali spiccano Andrea Scanzi intervenuto telefonicamente nella conferenza stampa di presentazione dell'evento e Michelangelo Tagliaferri. Una serata di gala al Teatro Rendano chiuderà l'appuntamento con la consegna del premio intitolato ad Olivievo Bea ad un anno dalla sua scomparsa. Credo che a Fegge ricorderemo una volta di più che i giornalisti servono, i mediatori culturali servono, i buoni giornalisti servono, quindi va bene aprire gli spazi, aprire internet ma non dobbiamo dimenticarci che poi serve qualcuno che ci prende in qualche modo per mano. Avremo tanti nomi illustri ma anche tanti giornalisti locali che raccontano le vicende della Calabria. Salvatore Bruno per la CNews24